Tonno, legume e olio dagli scaffali dei supermercati alle tavole di cittadini e delle famiglie più povere grazie al progetto Spesa per Tutti. Un'iniziativa presentata dall'assessore alla salute Stefania Saccardi nella sede della Giunta regionale toscana insieme a Caritas, Banco Alimentare, Coop, Conad ed S. Lunga. La regione ha contribuito con 150.000 euro. Sono 150.000 euro di prodotti che acquisteremo nelle tre più importanti catene della GDO in Toscana e che finiranno sulle tavole dei poveri, quindi di una concretezza assoluta. I beni verranno stoccati nei magazzini del Banco Alimentare, poi la Caritas li distribuirà ai bisognosi. E' attraverso una buona rete, spesso oggi parliamo di rete, una buona rete tra soggetti che hanno ruoli diversi sul territorio ma hanno un unico obiettivo, quello di essere veramente una regione e un territorio solidamente solidale. I dati regionali parlano di 139.000 persone che non possono garantirsi uno standard di vita minimo. Spesa per Tutti non è il solo impegno della regione contro la povertà. Abbiamo sottoscritto un po' di tempo fa un accordo per le messe universitarie, abbiamo messo delle risorse sulla povertà alimentare dal fondo di solidarietà interistituzionale, quindi abbiamo tanti progetti e tanti accordi con Caritas.